Ciao ragazzi ben ritrovati, buon venerdì a tutti, scusate, come state? Spero che questo video come al solito vi trovi bene e spero che la vostra permanenza in quarantena sia sostenibile perché poi alla fine bisogna solo cercare di arrivare a domani, devo essere sincero in queste situazioni qui c'è gente che ha vissuto roba peggiore e ne è uscita, penso ai campi di concentramento o alle guerre e quindi ce la possiamo fare assolutamente, per quanto mi riguarda un po' stressato, ho lavorato tanto e vabbè in generale non va proprio fantasticamente al lavoro ma non siamo qui per parlare di questo siamo qui per giocare un mazzo urozza però poi alla fine non siamo qui per parlare di questo secondo me credo questo, quando uno fa video su youtube in generale i video è difficile mentire i video soprattutto questo tipo di video, questi sono in presa diretta, non ci sono jump cut, così come si chiamano e quindi se uno magari dice, sai, lo vedo a Ghira, di solito si diverte, fa le cazzate eccetera invece questa volta è un po' così, allora dico perché non dirlo, cioè non è che ha grande senso nascondere un determinato tipo di agitazione o cosa del genere, quindi uno dice, come state ragazzi? ecco come sto io, fine, quindi bella per tutti, the tunneling cut intanto si è fatto veramente il mazzetto qui modern e noi andiamo a giocare contro Sanitoder GLHF, abbiamo vinto il dado e mollichiamo, mollichiamo 100% ok questa non la teniamo, buttiamo il Mystic Sanitoder come da insomma film, non possiamo guardare la prima perché tanto comunque noi l'astrolabio lo vogliamo fare e quindi faremo astrolabio e poi andremo a vedere la prima di Oppo probabilmente, però in Akhip come al solito che ho insegnato che così quando è sé, cioè se lui è un masso nero che c'ha Tossiz, c'ha Scartino eccetera, avete una carta in meno, in verità noi vediamo Serum Vision, Serum Vision può significare tante cose quando poi vedi astrolabio Serum Vision può significare molto un Urza come noi, oh che belle pescate, le migliori del mondo proprio vabbè cerchiamo di levarci un po' di fetch dal mazzo, cioè scusate di lande dal mazzo e facciamo un'altra terra per carità, un control e fetch deve pescare, noi siamo una specie di control, però ecco se pescassi Ur adesso sarei abbastanza contento perché potrei fare appunto le terre che ho in più e metterle in gioco lui intanto si ha Kitta alla grande, Serum Vision che ha fatto Tutto e due bottom, ok continuo a pescare la palta e io qui posso distruggergli tutti e due gli astrolabio e distruggere il mio che non serve ha senso, può giocare, lui è verde, quanto gli servono gli astrolabio, giocherà Urza secondo me ha senso, cioè devo essere sincero, per la mano che ho, cioè il nulla cosmico ha senso, io non ho bisogno di fixare il mana, magari lui ne aveva bisogno perché si è tirato fuori due terre così per esempio non può fare adesso, tra l'altro pensate sia un mirror questo no, vabbè lui gioca a Renan Six, noi questo mazzo l'abbiamo giocato più o meno l'Only Sandbar al cimitero, lo ripesca e via noi Uro? Niente, Uro proprio mai nella vita ok, allora ci rendiamo queste due fetch per i due Mystic Sanctuary giochiamo Urza che non credo che farà una bella fine però insomma speriamo che invece riesca ad aiutarci lui gioca anche Serum Vision, nonostante non sia un combo gioca anche Serum Vision un po' così la tua scelta, un po' boh gioca Goif allora, perché se gioca Serum Vision gioca Goif, perché vuole fare Serum Vision Goif per farlo più grande dalla fetch gioca Teferino mamma mia, qua non la vedo per niente oh bello Metallic Rebuk la miglior pescata del mondo probabilmente andiamo a levarci l'ennesima terra dal mazzo ho sbagliato qua, vero? sì, un po' sbagliato perché se adesso io spinno con Urza esce terra non buono oh mamma mia, un'altra terra ragazzi ma che è successo? noi qui dovevamo vincere hanno attivato i cheat, gli avversari escono gli esplosivi esplosivi che possiamo fare a zero perché aiutano Urza ad avere un mano in più niente di insomma trascendentale Teferi rimbalza comunque però mi sembra la minaccia più importante per N6 è a tre mamma mia che bella pescata Metallic Rebuk dopo tutte queste terre cioè alla fine noi siamo partiti con un Mulligan A6 che aveva Astrolabio esplosivi Mishra Bubble Urza e due terre e abbiamo pescato solo terre un Metallic Rebuk e l'altro esplosivo no esplosivo non l'abbiamo pescato l'abbiamo girato con Urza tra l'altro non bello ok peschiamo un criptico un'altra carta che mi sembra abbastanza inutile purtroppo e noi qui dobbiamo veramente trovare Uro perché sennò questa partita la vinciamo mai l'anda no Gilded Goose Gilded Goose un pochino aiuta cioè fa un altro artefatto qui andiamo a prendere un'altra terra così e cerchiamo chiaramente di fare questo criptico verrà counterato sicuramente però tenerlo in mano direi che non ha senso quindi leviamo questo affare cioè leviamo più che altro peschiamo una carta c'è un opt Castel Hardenwell che crea degli umani beh abbiamo fatto bene a levargli quelle pedine questo che gioca quattro colori control proprio ho un bel fatto exile così l'unica altra nostra risorsa è finita adesso lui lo rifà a teferino però quanto meno abbiamo scoperto e non ha counter va bene potevamo evitare di spinnare perché così avevamo rebuke open e fare counter su teferino sì potevamo potevamo è una scelta è una cosa che non ho fatto e sinceramente non rifarei dovevo cercare il massimo del vantaggio da quell'urza e quello ho cercato lui prende Scalding Tarn addirittura non prende l'Only Sandbar non si sa bene perché rifatte feri quindi adesso potremo fare comunque in caso quella giocata che prima dicevamo più che altro con Scalding Tarn possiamo che succede? Ah ci ha levato il clou che non è un clou però va bene altro tre in mana Uro eh certo lui le ha pescate tutte ha sette carte in mano non abbiamo niente di tutto questo va bene Mystic Sanctuary che li mette in cima 8 Serum Vision Serum Vision va bene bello 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 l'Anda no ma quasi ok allora è inutile dire che per giocare una partita di me dobbiamo far così dobbiamo mettere in cima con Mystic Sanctuary cryptic command poi fare cryptic command tenersi open di cryptic command che quantomeno può prendere Deferi noi una Serum Vision lo sapevamo quindi ho anche sbagliato avrei dovuto aspettare dove si chiama bolla bolla in to bolla c'è una roba ma che partita è che cosa sto vedendo qui lui può scegliere o fa Uro o rifà Teferi non può fare tutte e due ah non può fare proprio Uro grazie al fatto gli abbiamo levato gli astrolabbi quindi ricordatevi quando direte a chi era una pippa quella giocata molto figa che ho fatto ok qui lui può counterare non countera ora immagino che lui abbia una terra verde in verità quindi lui Uro lo può fare ah se puoi fare Uro perché ah ok è astrolabbi quindi con l'astrolabbi fa Uro a cui noi praticamente non abbiamo risposta se non il nostro Uro quanto mano abbiamo 1,2,3,4 sì potremmo farcela in teoria a fare Uro va bene Uro sì Uro è una cosa fantastica vedato a te noi abbiamo un'altra miscela bubble invece tutto questo Teferi ci ha rovinato la partita chiaramente se hai avuto la possibilità di fare counter sulle sue spell sarebbe stata un'altra partita ecco un altro metallic rebuk è utile quello che volevamo credo no faccio gilded goose adesso posso vedergli la prima tanto la pesca sicuro quantomeno doppio medale di crebiucca non farà delle spell così importanti qui eccolo il nostro titano perché questa partita prevedo che sarà una partita lunga cioè a meno che non ultima di friend and six sarà una partita lunga allora qui facciamo così lui quindi gioca viandanti noi non li giochiamo lui pagherà 3 qui non si aspetta che abbiamo il secondo ma noi abbiamo appunto anche il secondo quindi qui il nostro amico qui potevo tra l'altro tappare qui per fare un food che sono un po' triggerato e non l'ho fatto anche perché questo asset ci ammazza fondamentalmente vince di ultimamente di quello noi non penso possiamo oddio se peschiamo terra posso fare uro criptico quindi qualcosa posso fare qui è un peccato non aver avuto il secondo food avrei dovuto fare il secondo food chiaramente sacrifico una 0 2 perché non serve a niente terra l'ho pescata quindi possiamo salvarci vediamo attenzione mystic sanctuary cryptic command ero più contento di pescare tipo bot non lo so forse esplosivi ero ancora più contento blue sì tutto apposta anche noi abbiamo un titano che si chiama uro che avevamo avevamo un titano scusate io non voglio usare patto exile ovviamente che sennò qui l'abbiamo persa proprio no e via questo pensa un po' un altro metallic rebuke che è abbastanza inutile li vedremo tutti poi ero anche con the play cioè ho pescato veramente troppe terre c'è un vabbè rennesix lo rifai sì l'importante è che non ultimi tra l'altro c'è anche l'only sandbar c'è proprio un mazzo ripeto prevede una partita lunga noi emery abbiamo in più di lui che lui deve praticamente eliminare compatto exile o roba del genere qui potremmo pescare calvanic blast per levare quello peschiamo urza se lui non gioca counter da quello che ho capito lui non gioca counter da quello che ho capito ok possiamo concedere e che c'era sotto una bella terra e poi un'oca ottimo ok allora questo è super questi sono super questi sono super allora per girare il più possibile intorno a teferi andiamo a levare quei tre lui gioca gli andanti quindi calvanic blast non è morta non fa schifissimo esplosivi sono un po' così chi ci ammazzo cioè giusto prende in six che però ammazzo con calvanica quindi decido o calvanica o prende in six quale è più utile interessante critico non è una bella carta comunque verità leggiamo criptico e teniamo sia esplosivi che calvanica comunque counteriamo con questo ad uno con questo counteriamo e prendiamo ripeto noi abbiamo emri più di lui ah potevamo usare cripta di thormod sbagliato ho sbagliato avrei dovuto giocare cripta di thormod comunque questa è una mano decente quanto meno che potrebbe fare no fa emri sicuro a uno perché io faccio un'altra oca e vabbè serve pescare una fetch perché secondo me qui tarles straker è ma prima tutte terre ma tutto ma come che caspita vabbè tre emri cioè ho detto dobbiamo pescare emri ce ne ho tre adesso facesse patto exile subito su emri per levarlo perché se no non li facciamo astrolabio potrebbe essere sensato interessante non succede c'è uro noi sicuramente tappiamo questa emri per fare astrolabio proprio c'è questo non voglio sentire ragioni e con terra in mano io faccio uro perché uro è la giocata migliore eh sì qui i danni li prendo non mi interessa verde blu ecco ora lui può counterare qui significa che non ci fa pescare una carta ok questo qua faccio un altro emri per avere margine per uro eh sì a me mi sembra una buona giocata questa tengo questa emri stappato e poi andrò a prendere una sua carta cioè a vedere una sua carta dopo che lui fetch ovviamente lui c'ha un sacco di serum vision come si chiamano e opt che comunque quanto meno non servono a un cazzo qui arriva il patto exal noi abbiamo un altro emri qui voglio la verde io perché sono isola la verde me la sono macinata eccola qua in realtà meno male che ho vostro labbia comunque l'altro emri ce l'ho quindi tutto a posto ora dobbiamo decidere se giocare la partita con uro o la partita con tarles traker io credo che in questa situazione qui cos'è fare ma lui tra l'altro non c'ha neanche una landa che ha che c'aveva in cima mystic slantory che ha pescato e ha fatto ok ragazzi io cioè oh se faccio tracker poi faccio terra faccio pure un'altra oca vabbè facciamo giocare così faccio un'altra oca faccio emri faccio mille cose ecco qua faccio oca e faccio emri cioè talmente tanto di quel vantaggio lui qui deve decidere quantomeno dove tirare il patto exile e poi farò un uro a turno cioè perché io non credo che veramente c'ha tutti questi patto exile ok go che è una band fantastica vedetevi i loro video sono veramente king of youtube e arriva arriva il patto exile numero 2 quindi c'è uno poi ne ho due al cimitero arriveranno 1 2 3 4 5 6 mana contro grande c'erano tutti i miei euro lì 1 2 quasi che roba fantastica ragazzi che roba fantastica non so neanche se ho sbagliato può essere quello sbagliato allora andiamo a pescare carta adesso emery non serve più velof summer è così così mamma mia io che è lì ecco che cosa questo non ho pensato e ho sbagliato ovviamente io dovevo pensare ad ashok e quindi anziché fare al turno prima le due giocate che ho fatto cioè emery e come si chiama e tarles tracker che erano giocate che resistevano in verità ad ashok dovevo giocare euro subito tra l'altro tracker tutti e due al cimitero quindi esiliati quindi per sempre crypticos ha qua galvanic blast cioè un sacco di carte ci ha levato importanti ora il suo problema è un urza diciamo che urza un po' rappresenta un problema perché io ho queste e posso far crescere quel costrutto in maniera importante e chiaramente arriva questo e beh il costituto cresce comunque in maniera importante l'abbiamo detto allora qui bisogna fare tappo tappo un verde e faccio un token risolve l'8 exile l'ultima terra comunque questa partita l'ho buttata qua non è che ho quattro carte andiamo a vedere urza 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 emery mystical dispute mystical dispute è una carta carina ma noi senza cimitero ragazzi non credo che giocheremo senza cimitero purtroppo non voglio andare a sacrificare quelle emery oddio 19 carte ma si sacrificiamo quelle emery no in una situazione che ho adesso che posso veramente counterargli tutto anche perché se a counter ho anche vale of summer voglio fare così io il costrutto però lo faccio grosso 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 quindi adesso lui si deve inventare questo ennesimo patto exile sarebbe il terzo che deve passare attraverso il mio mystical dispute quindi non può essere fatto da snapcaster target player noi da 19 andiamo a 15 carte quindi diciamo che comincia a essere grave la situa io abbiamo qualche altra cosa per menargli doppio abbiamo un uro che tra l'altro richiede carta al cimitero quindi non è proprio il massimo e poi poco altro va bene allora andiamo a fare i nostri andiamo a rendere quel costrutto sempre più pericoloso così così e questo no perché ci serve verde in caso succeda qualcosa ah no ci abbiamo qui vabbè no comunque no allora noi vogliamo attaccare con questo il buon ascio che con questo lui proprio rischiando va bene va a 11 noi abbiamo ripeto mystical dispute che un po' lo tiene bloccato dipende cosa fa cioè non può fare uro e non può fare urza se lo ha e non può fare critico soprattutto e ora qualcosa diventa grosso 8-8 beh 8-8 è un significativo beh questa è un'ottima carta che potevamo pescare abbiamo pescato allora qui lui è morto sì attenzione critico mystical dispute c'è tipo veil of summer da parte sua verde e noi facciamo questo qui molto bene molto bene 10 8 9 e 10 è morto oh cazzo ma un'altra volta sto bug ah è morto uguale però oh fermi io non voglio mandare avanti dopo questo attacco perché basta creare un foot token 9 1 10 ok ok allora ste calvaniche ma ste calvaniche ma quanto so forti anziché giocare le biuc anziché giocare le mie robe esplosivi Brennan's X Uro che lo gioco anche io ma non è meglio Crypto di Tormod infatti anziché calvanica tra l'altro Pidin Needle perché lui c'ha i viandanti a me esplosivi raga ho deciso non mi piace lo buttiamo accesso basta ed il spellbomb è forte perché è forte contro Uro non leveremo Gildeguse leviamo l'ultimo Critico che è un The Draw proprio non è interessante cerchiamo di giocare una partita sensata magari non sbagliando giocando un attimo intorno a Ashok vedendo che cosa succede allora qui abbiamo un Emery di secondo un The Draw che fa tipo schifo lui ha tenuto tipo pescare Crypto di Tormod mi piacerebbe non lo so qui non faccio fetch che mi tengo per prendere una Mystic Sanctuary in tempi ecco in tempi che ne pesco un altro di fetch 2 Brandon Six bello senza fetch al cimitero però non è tanto bello mamma mia ragazzi wow siamo Fortunelli Akira perché fai i fetch se c'hai Tarle Stryker perché io comunque la speranza è levare qualche terra che non voglio pescare cioè la 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 voglio sempre ecco la voglio sempre comunque Emry è buono perché abbiamo trovato Crypto di Tormod questo è un'ottima notizia Emry è buona comunque perché ok 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 è buono non so se io faccio commetto sempre questi errori wow 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 penso che non c'è altra stata dico commetto sempre questi errori di non ragionare ma l'ho fatto due volte sia con loro che con questo Pidin Needle non ragionare a che cosa potrei fare perché quando vedo una carta che mi serve impazzisco e dico oh che bellezza allora qui onestamente forse si potevano fare delle altre giocate forse o forse effettivamente le carte coppe scato erano talmente tanto forti che ei dà paura adesso lui può fare Ashok qui muore no pensavo che morisse ma infatti il rosso chi lo gioca a fare se no l'ha tirato fuori solo per Vrenen 6 ok comunque Vrenen 6 l'abbiamo bloccato e qui forse c'erano delle altre giocate in giro non lo so onestamente non lo so però abbiamo fatto queste e mi sembrano comunque adeguate al momento non muore ancora Emery che per lui insomma non è una buona notizia perché noi facciamo un vantaggio carte infinito lasceremo la bolla per capire se fecciare o meno tanto abbiamo da fare Urza chi c'abbiamo in cima una galvanica voglio pescare galvanica non c'è niente non c'è Geis non c'è nulla io non credo che voglio pescare galvanica allora adesso la domanda è cosa mi voglio far counterare io comunque non voglio pescare galvanica l'abbiamo detto quindi io fecerò farò Uro lasciando un artefatto al cimitero dove io posso fare anche un secondo Emery che però abbiamo imparato da prima che è meglio di no comunque facciamo Uro per giocare intorno a Ashok lui non ha lui può avere counter in verità lui può avere counter allora questo esilia 5 carte 1 2 3 4 5 noi vogliamo lasciare la cripta di Tormod cioè io alla fine voglio pescare un'altra carta adesso no io non credo di voler pescare un'altra carta ok sono sincero con voi non credo quindi lasceremo solo la cripta di Tormod tac uno che entra è una notizia molto importante adesso si mangia fatto exile va bene cioè va male ma va bene comunque come vedete abbiamo detto abbiamo girato intorno quanto meno a Ashok e facciamo terra base qui in verità fare il secondo emri per vedere se troviamo un altro artefatto più succoso ragazzi comunque una cosa da fare soprattutto perché questo è stappato troviamo una bubble tra bubble e cripta di Tormod io faccio bubble perché adesso in verità problemi di carte ne ho quindi ecco ti ho te hai deciso cosa ammazzarmi va bene io pescherò tra l'altro una carta in più adesso tac attenzione blocchiamoci nel suo upkeep vediamo che cosa pesca una isola ora abbiamo un buon turno ora possiamo fare Urza protetto da counter Jace Demand Sculptor è un bel cliente la partita si riavviva così pensate Jace Demand Sculptor una volta era proprio cioè Jace è finita la partita adesso Jace ha contro Archmage cioè Tarles Strag perché io mo' glieli faccio tutti Urza tutti glieli faccio cioè nel senso già solo Emery che ti prende una carta a turno che può essere una carta importante di qua di là rappresenta un bel fastidio rappresenta un bel fastidio ok allora prima facciamo questa per avere un mano in più poi facciamo questo benissimo entra poi facciamo questo non c'è niente che valga la pena di pescare all'interno del nostro cimitero con la Mystic Sanctuary numero 2 potremmo potremmo pescare adesso con Archmage Charm ma mi sembra onestamente eccessivo ci teniamo Archmage Charm capiamo se dobbiamo fecciare o no bello Archmage Charm in cima quindi non feceremo faremo la cripta di Dormod che comunque volevo fare da una vita e feceremo subito dopo aver pescato Archmage Charm abbiamo doppio Archmage Charm da fare doppio ok qui non vado a prendere Mystic Sanctuary c'è solo un iso c'è solo questo caspita questo in cartaceo lo vedi bene e qua no no avessi messo al contrario sbagliato in pilare i trigger forse facevo ancora in tempo a fare un Archmage Charm Terminus ma pensa questo che gioca questo gioca prendete il mazzo di Legacy in Modern un bianco counter lui fa counter adesso fa velo summer e noi counter counter 4 carte a 3 mana non può fare criptico anche Terminus viene counterato noi però stiamo finendo le carte utili beh diciamo che abbiamo una board un po' fortina da risolvere cioè nel senso che lui se non è Terminus che sementa comunque stiamo giocando al buio contro un mazzo che non esiste e che quindi sono stato molto fortunato ad avere doppio Archmage Charm perché qui la partita la perdo 100 volte su 100 io non gioco mai intorno a Terminus manco se mamma che caspio ma che stiamo a di giocare intorno a Terminus in Modern comunque ok vediamo che succede lui può mettersela tra l'altro in cima a questo Terminus può fare aspetta 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 questo non deve succedere 5 5 perché se c'è Mystic Santori io c'è Tormod Crit fermi tutti ma non ci facciamo proprio fregare ok poi può essere che c'è Snapcaster in risposta per fare no tra l'altro non ha mano a bianco quindi non può fare patto exile ecco appunto Mystic Santori lui voleva mettere Terminus in cima perché vuole mettere Terminus in cima perché c'è Opt e così mi fa Terminus a turno mio cioè bello tranquillo comunque come ho missato io il fantastico Mystic Santori lo missi anche tu e adesso pronto a resistere a questa board perché io Jace ho edo cadavere poi non so voi ma insomma attenzione arriva l'Opt quindi c'è Terminus ne ha un altro ah no ci sperava mamma mia che paura ok allora dicevamo che qualcuno deve morire tipo ma secondo me morono tutte e due alla fine peschiamo non lo ammazzo eh peschiamo non lo ammazzo mai in vita 5 10 11 12 gliene faccio no allora legiamo gli stivandanti e poi continuiamo a giocare la partita eh quindi io continuo a bloccargli il gioco del cimitero perché è una cosa sensata cioè in verità io non gli ammazzo N6 è un essere troppo come si dice avere veramente eccessivo mazza questo è veramente interessante dico avere troppa prudenza 6 5 11 6 e 6 12 13 14 quindi 17 17 de poco de poco però questo spompa questo quindi in verità non è vero va bene quindi questo attacca Jace questo attacca te questo attacca te lui può fare qualcosa ma io ho counter è bloccato il gioco è bloccato lui se qui c'ha patto exile che potrebbe fare comunque vai terminus terminus mi ammazza perché non è un counter bello terminus mi ammazza perché io poi alla fine mi rimane un clue diciamoci la verità tra l'altro da quello che ho capito non ho più terre nel mazzo no non so come mai non ho sicuramente più isole base ho una foresta base quindi se pesco mi stira in forest posso fare due clue se no no perché ho tirato fuori tutto è andata così con tutto con 26 carte va bene allora lui ha questo turno chiaramente poi muore ripeto il gioco del scinitario che abbiamo bloccato che devi fare bravo Ashok Ashok ci piace per levarmi quello io cerco di non farmelo levare anche se secondo me è più pericolosa la seconda spell che lui farà perché Ashok non risolve la board capiamoci quindi se lui avesse veramente la possibilità di fare opt terminus nel turno mio io ho perso questa partita buttandola fondamentalmente perché Ashok non risolve la board cioè lui fa Ashok a me non me ne frega niente mi leva un uro dal cimitero che mi urta per carità però va bene fatto fatto exile io non ho terre ah no giusto la foresta base questo viene counterato ok quindi era proprio un abbocco un abbocco per non morire al prossimo turno però insomma non è che proprio il favorito ripeto andiamo a pescare con il nostro clou un altro fantastico gilded goose allora gilded gilded goose poi astrolabio poi un altro artefatto da qua 7 abbiamo già bastano quindi attaccare bolt ciao e ragazzi siamo 3-0 in questa league modern quindi come al solito grazie per aver guardato ci vediamo domani beh siamo contenti siamo contenti questo mazzo spacca proprio cioè finisce male le risorse non so come veramente la partita con l'emfa ciò che ho pensato di perdere è arrivata un urza e se l'è portata a casa bello 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 mi sembra davvero forte tra l'altro penso che si possa vincere anche a forza di fare il recursion di galvanic blast non c'è deprive per fare quel giochetto lì come lo facciamo con urza ub però comunque insomma già che hai due mystic santori tre galvanic blast nel mazzo un po' di galvanic che le puoi lanciare ripeto grazie per aver guardato ci vediamo domani con un nuovo video